Spero di un cambiamento rispetto a quello che successe 22 anni fa, cioè di essere stato condannato per un reato che non avevo mai commesso e che non ho mai commesso, cioè appunto di far parte di una banda di pedofili satanisti della bassa modenese. Federico Scotta, 11 anni di carcere con l'accusa più infamante, ora attende la revisione del processo alla Corte di Appello di Ancona competente sui casi dell'Emilia Romagna. L'udienza slitta il prossimo 10 dicembre perché ci sono altre istanze di revisione depositate. Gli furono tolti figli di 3 e 6 mesi e la più piccola in sala parto, nell'ambito della vicenda dei diavoli della bassa modenese. Sono stato accusato di accuse che sono le più infamanti, soprattutto da parte di bambini che mi avevano accusato e tirato in ballo anche i miei figli che all'epoca avevano 3 anni e 6 mesi. Nel frattempo ho fatto 11 anni di carcere e non è stato facile perché entrare in carcere con questo tipo di reato è la cosa più difficile, soprattutto sopravvivere perché io dico che ho avuto 4 gradi di giudizio e spero che questo sia positivo, quindi 5, perché il quarto grado di giustizia è quello di sopravvivere all'interno del carcere con questo tipo di accusa. Secondo me questi bambini sono vittime istituzionalizzate, nel senso che sono state e hanno avuto una metodologia di racconti che sono metodologie che non esistono scientificamente in base a come dicono tanti altri personaggi che fanno parte, tipo Cismai o il centro Ansel e Gretel dove hanno fatto diverse peristi, anche quindi su Bibiano, su Biella, su Riano Flaminio. Gli operatori erano gli stessi, per cui Ansel e Gretel erano i tecnici che hanno coadiuvato questi processi come periti del GIP, quindi se questo era il modus operandi e davvero questi ragazzi sono stati indotti, noi dicevamo suggestionati, però la Cassazione ha detto in questi processi, in altre sentenze, ma che riguardano persone assolte di queste vicende che erano tutte in grosso modo identiche, che parlare di suggestione sembrava un mero eufemismo. L'ascolto del minore viene fatto non attraverso l'utilizzo di protocolli scientifici come la carta di noto o il consensus del 2010, ma viene fatto sulla base di sensazioni di quello che l'operatore percepisce dal racconto del minore. Racconto che molte volte viene influenzato dal modo in cui è posta la domanda e quindi questa cosa viene fondamentalmente falsata. Come si può avviare questo problema? Secondo noi applicando quello che la comunità scientifica stabilisce come modalità di ascolto.